Oggi voglio mostrarvi un piccolo haul che ho fatto sul sito MacroLibrarsi In realtà sono due ordini, adesso vi spiegherò perché Però voglio concentrarmi soprattutto su prodotti per capelli Allora, nel primo ordine ho preso, anche se mi indica una pade corticati perché l'avevo terminati Ve li mostrerò casomai in un prossimo video E di detersivo solido per i piatti a mano che vi mostrerò sempre in un altro video Che sarebbe quello dedicato a tutte quante le alternative zero waste Che vi ho permesso di fare all'inizio di questa settimana E che però purtroppo per vari motivi non ho potuto girare È stata una settimana veramente pessima, una settimana di fuoco Non ho avuto un attimo di tregua e purtroppo non ho potuto girare il video Che comunque mi richiede un minimo di preparazione Nel senso che voglio parlarvi di tantissime alternative Zero waste, comunque ecosostenibili E quindi siccome vi ho parlato di 20 alternative Sono tante, ho bisogno di avere del tempo da dedicare a questo video Perché voglio farlo in un certo modo Quindi purtroppo sono costretta adesso qui A dirvi che questo video lo ramanderò ai primi di giugno Quindi mi dispiace perché ci tengo tanto a questo video Però purtroppo veramente sarà una settimana pessima E questa che verrà sarà ancora peggio Quindi vedremo se riuscirò a girarlo entro fine maggio Ma non credo Preferisco dirvi i primi di giugno In modo da stare più tranquilla con la coscienza più che altro Allora, nell'ordine che ho fatto Oltre a questo detersivo solido ai semi di canapa Ho messo dentro anche l'indigo Nelle erbe di Hanas o di Janas Perché come vi avevo spiegato nell'ultimo video dei prodotti finiti Ho utilizzato delle polveri per i capelli delle erbe tintorie di natura verde Che si trovano ad acqua e sapore Sono economiche e facilmente reperibili Però non mi sono piaciute per niente Siccome con questo mi sono trovata benissimo Ed ha comunque un prezzo assolutamente accessibile Perché mi pare che scontato stava sui 5-6 euro Sui 6 euro Ora non ho qui il foglio dei prezzi Però comunque mi sono trovata bene Preferisco appunto acquistare una cosa del genere Che sto sicura E so che comunque mi sono trovata bene E mi piace Avevo acquistato d'acqua e sapone Perché il mese scorso non ho fatto nessun ordine online Però adesso mi sono ritrovata ad acquistare altre cose E ci ho messo dentro anche l'indigo Poi l'altro prodotto che in realtà mi ha spinto un po' a fare l'ordine È stato questo Vi parlerò di questo prodotto anche in un altro video Perché ultimamente ho provato dei campioncini O delle mini taglie Sono rimasta molto soddisfatta E poi sono passata all'acquisto del prodotto in full size Questo è uno di quei prodotti E sono praticamente di cristalli vegetali con semi di lino Della marca Fitophilos Sono soltanto mi pare 50 ml di prodotto Costa sui 13 euro Io ho provato il campioncino Quando ho fatto la trasferta a Firenze Ce l'avevo da un bel po' di tempo Questo campioncino L'ho messo dentro in valigia Così almeno se devo risistemare Sicuramente sapevo che non avrei avuto tempo di rilavare i capelli Ho detto se li devo sistemare Mi porto questo prodotto Vediamo un po' come va Lo provo E mi sono trovata benissimo Soprattutto per il restyling Soprattutto per rinfrescare un po' i capelli Dopo averli casomai lavati Dopo al terzo, quarto giorno Insomma, prima del giorno del lavaggio E mi sono trovata benissimo Soprattutto per quanto riguarda O i baby hair Oppure comunque questa zona qui dietro Che sta diventando crespissima Sta cambiando proprio conformazione il riccio Forse data un po' dal taglio fatto male Perché l'ho fatto da sola questo taglio Sia perché, non lo so Sta cambiando il riccio per i capelli Per i farmaci, per il cambio di stagione Comunque mi aiuta comunque a mantenere Un attimo l'ordine dei capelli A renderli un po' meno crespi L'unica cosa che sono stata un po' sfortunata In realtà è la seconda volta che mi capita Mi pare proprio con macro librarsi Perché questo prodotto è arrivato O mezzo aperto, o meglio Non era chiuso bene E tuttora non riesce a chiudersi benissimo È come se rimane leggermente storto Forse non si percepisce dalla fotocamera Però vedete È come se questa zona rimanesse un po' più aperta Come se appunto la dentellatura che sta all'interno Non riesca ad aggrappare bene il tappo O viceversa E quindi praticamente il prodotto mi è arrivato Ora l'ho pulito Era completamente tutto quanto fuori Si era sporcata un po' Vabbè anche la carta In realtà non ha perso tantissimo prodotto Però io per correttezza E anche un attimo come riscontro da cliente Ho voluto scrivere a macro librarsi Soltanto per dire loro Probabilmente queste confezioni sono difettose A me è arrivato aperto Ho specificato che il prodotto che era uscito Era veramente poco Però comunque ci tenevo a dirlo Perché penso comunque che il rapporto col cliente È importante Loro sono stati gentilissimi Si sono scusati Ho mandato loro anche delle foto Poi successivamente Per far vedere loro l'entità del danno Insomma che era minimo Però c'era casomai di controllare Visto che fanno tante spedizioni Di controllare questo packaging Che probabilmente è proprio difettoso Come tipo di boccetta Perché può capitare Mi era capitata la stessa cosa Con l'olio di avocado Che però Ne era uscito fuori veramente tantissimo Questo l'anno scorso Due anni fa Un terzo della confezione Era praticamente fuori Aveva macchiato tutto Aveva sporcato Quindi praticamente il prodotto Ce n'avevo quasi la metà Loro nonostante l'entità del danno fosse minima Mi hanno comunque rimborsato Mi hanno detto che mi avrebbero dato Un buono Che valeva per 12 mesi Un buono di 13 euro Quindi del costo del prodotto Che potevo utilizzare Nel loro sito Senza spese di spedizione Quindi veramente Si sono rivelati come sempre Super professionali Carinissimi E io non mi sto ancora mai di dirlo Perché ogni volta che acquisto da loro O se succede qualcosa Sono veramente sempre molto molto disponibili E questo ci tengo tanto a precisarlo Perché non tutti i negozi fanno così Quindi ho deciso di approfittare E di prendere subito Perché avevo il timore Veramente di dimenticarmi di questo buono Ho detto L'acquisto lo faccio subito Quindi ho aspettato più o meno una settimana E siccome ho terminato Quasi il gel d'aloe Comunque i prodotti per capelli Sono terminati E questo pensavo fosse molto più grande Non avevo letto sul sito Che era 50 ml Pensavo forse un prodotto Da 100 o 150 ml Sono stata un po' distrattata Io l'ho preso un po' Con la foga di volerlo Perché mi ero trovata bene Quindi non posso comunque Non potevo utilizzarlo Non è un prodotto da styling Da utilizzare su tutta la capigliatura Ad ogni lavaggio E quindi ho deciso di prendere una spuma Perché volevo passare alla spuma E c'era in offerta I prodotti della Giada Quindi se cercate i prodotti Giada Li volete provare o già vi piacciono Vi consiglio a macro librarsi Perché sono in sconto Ho preso questa mousse per capelli Zero alcol Ho visto un attimo la descrizione E anche le recensioni Mi sembrava buona La utilizzare sia da sola Sia insieme alla crema disciplinante Che io ho E poi ho deciso anche di acquistare Visto che avevo appunto Questo buono di 13 euro Questa mi pare di averla pagata Sui 9 euro Anche meno Non mi ricordo 8-9 euro Allora ho deciso di prendere La crema attiva Ricci Disciplinante elastica Della 11 Questa marca per capelli La linea per capelli Della Domus Olea Toscana Questa mi pare Di averla provata In campioncino Anche con questo Mi ero trovata bene Ed è un effetto rilassato Rimbalzante Anticrespo Che è la cosa che a me serve Di più in questo periodo Lucido Naturale Allora Questo tipo di prodotto Io conto di utilizzarlo Sia a capelli umidi Però l'ho preso prevalentemente Per utilizzarlo a capelli asciutti Un po' come questo Un po' per il refresh Un po' per Insomma sistemare un po' I capelli I giorni dopo il lavaggio E quindi ecco Questa sarà la mia routine Per quanto riguarda Lo styling dei capelli Ve ne parlerò poi In maniera un po' più approfondita Una volta che l'utilizzo Perché sono prodotti nuovi per me E il campioncino Era questa crema contorno occhi Della Biohert Loom Che non ho mai provato In realtà c'erano varie Vari campioncini Ho sbagliato Perché non volevo questo Volevo un siero Che non avevo mai provato Alla fine probabilmente Ho cliccato questo Mi sono confusa Però vabbè Lo provo Lo provo comunque con piacere Perché è un contorno occhi A me contorno occhi Piacciono Mi piace tanto utilizzarli Quindi vedremo un po' come andrà Quindi ecco Il mini video dedicato All All Macrolibarsi Finisce qua Ci tenevo a farlo anche Per sottolineare ancora di più La professionalità Dello staff di Macrolibarsi Perché è un sito comunque Da cui acquisto Da tanti anni E con cui mi sono sempre trovata bene Fatemi sapere se conoscete E se avete anche dei consigli Da darmi per quanto riguarda l'utilizzo Vi mando un bacio grande Ciao Ci vediamo al prossimo video